Consiglio Comunale questa mattina a Chieti. Non ci sarà una commissione di inchiesta con il compito di fare chiarezza sulla situazione dei conti in rosso dell'amministrazione, come chiesto dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Ottavo Ergenio e Manuela D'Arcangelo, ma un Consiglio Comunale speciale, straordinario, al quale saranno invitati tutti i dirigenti del Comune e responsabili di teatro e servizi. E' stata questa la scelta della maggioranza di centro-destra, con la intenzione di avere un quadro di tutta la situazione esistente, non solo da un punto di vista politico e delle responsabilità di chi ha gestito le amministrazioni che si sono succedute dal momento in cui i conti non sono più stati in equilibrio, perché è invistiata anche la precedente amministrazione del sindaco Ricci, ma anche dei responsabili amministrativi dei vari settori e della società chiamata a riscuotere le tasse per conto dei cittadini. Verrà fissato questo Consiglio straordinario nella speranza che davvero si riesca a capire dove è nata la situazione debitoria del Comune di Chieti e soprattutto si sia in grado di indicare la strada per risolvere la situazione. Questa è nell'intenzione di chi ha promosso sia la richiesta di una commissione speciale e di chi anche ha scelto invece di andare a un Consiglio straordinario speciale. Vedremo.